Di questo esteso e soprattutto bellissimo scorcio del territorio del capoluogo partenopeo se ne discute cosa fare da oltre 30 anni. Ma finora nulla di concreto è stato fatto. Subito dopo la sigla cerchiamo di capire un po' a che punto è l'affare Bagnoli. Quali sono gli ultimi progetti, lo sviluppo e il futuro di Bagnoli? Cosa si sta facendo per realizzarli? Quali sono i tempi previsti? Soprattutto qual è l'obiettivo finale su Bagnoli? Ma come sempre andiamo con ordine. Bagnoli è l'estremo territorio occidentale del comune di Napoli. Praticamente siamo sotto la zona e la collina di Posillipo. Infatti se vi affacciate da uno dei tanti belvederi per esempio di Posillipo quello uno su tutti il parco virgiliano potete vedere tutto il territorio di Bagnoli e non solo potete ovviamente affacciarvi con lo sguardo a vedere Pozzuoli ed ancora il golfo di Pozzuoli e l'isola di Procida, Ischia. Questa parte di territorio di Napoli era stata destinata ad uno sviluppo industriale e quindi destinata ad aria industriale fin dal 1904. Ed è infatti nel 1906 e lì che fu impiantata l'Ilva di Tal Sider che ben presto diventerà uno dei principali poli siderurgici non soltanto italiani ma d'Europa. Durante il fascismo, siamo negli anni 30, si aggiunsero anche altre aziende per esempio l'Eternit e la Montecatini. Nel 1970 iniziano però i problemi sulla siderurgia napoletana. Ci sono importanti contrazioni d'affari fino alla completa chiusura degli altoforni e di tutta l'attività industriale intorno al 1990. Da allora Bagnoli è semplicemente lo scheletro del sogno industriale a Napoli che è durato tutto un secolo, praticamente tutto il Novecento. Dire Bagnoli era come dire il Tal Sider durante il secolo scorso ma significava anche dire scempio del territorio, significava dire anche però occupazione per tanti lavoratori napoletani. Mentre dopo che c'è stata la chiusura di tutte le attività industriali nel corso degli anni 90, Bagnoli è sinonimo di riqualificazione, di bonifica, di tanti bla bla che si sono succeduti in questi ultimi 30 anni. Significa smantellamento Bagnoli, significa sviluppo. Ma soprattutto permettetemi di dirlo una grande scommessa per il futuro, non soltanto per questa porzione di territorio ad occidente del capoluogo partenopeo, ma una grande scommessa per tutta la città di Napoli. Attualmente Francesco Floro Flores è il commissario di governo per la bonifica e la riqualificazione di tutta l'area di Bagnoli. L'indicazione del suo nome in quota 5 stelle è stata fatta dal ministro del Mezzogiorno Barbara Lezzi e la nomina è stata firmata da Conte. Prima di lui c'era Salvatore Nastasi che aveva avuto la carica per tre anni di commissario a Bagnoli. In questi tre anni nulla era stato fatto, così come nulla è stato fatto in questi ultimi 30 anni. Salvatore Nastasi aveva comunque rimesso il proprio incarico quando il governo era cambiato a Roma, passando ovviamente dal PD al governo giallo-verde, Movimento 5 Stelle, Lega Nord. Salvatore Nastasi aveva comunque rimesso l'incarico. Quando si è annusato l'odore di nomina di Francesco Floro Flores ci sono stati comunque molte polemiche perché si è portata avanti una linea di conflitto di interessi di Floro Flores. Soprattutto questa linea è stata portata avanti dall'attuale governatore della Campania, Vincenzo De Luca. In una lettera infatti inviata al presidente del Consiglio, Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, aveva scritto che la nomina di Floro Flores era inopportuna come commissario straordinario a Bagnoli, in quanto lo stesso Floro Flores aveva nell'area anche notevoli interessi di carattere economico. Parlo soprattutto della nomina per la gestione dell'Arena Flegrea, avuta in concessione dalla Mostra d'Oltremare, a sua volta controllata dal Comune di Napoli. E tra l'altro lo stesso imprenditore Floro Flores gestisce anche lo zoo di Napoli. Ma De Luca non aveva avanzato soltanto questi motivi di inopportunità di Floro Flores per questi motivi alla nomina di commissario di Bagnoli. Il governatore della Campania riteneva infatti che la nomina, tra l'altro poche settimane prima dello stesso Floro Flores, nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, faceva sì che questo stesso ente controlla Fintecnia, che a sua volta è proprietaria di molti suoli proprio a Bagnoli. D'altra parte invece la posizione del sindaco attuale di Napoli, De Magistris, è stata altalenante, perché in un primo momento si è detto favorevole alla nomina, ma poi attaccato dal Partito Democratico, perché il fratello del sindaco De Magistris, ossia Claudio De Magistris, lavora con Floro Flores proprio per la gestione dell'Arena Flegrea ed ancora attaccato dal suo stesso partito, ossia Dema, da sempre contrario al commissariamento di Bagnoli, ha fatto un, se non una marcia indietro, un passo di lato e si è votato al silenzio. Comunque gli approfondimenti giuridici su queste presunte incompatibilità sono stati fugati e il presidente del Consiglio ha firmato poi la nomina. E l'anno decisivo per Bagnoli sembra essere così, anche se poi si dice così da quasi 30 anni. Ma a questo punto qual è il futuro che è delineato, disegnato per Bagnoli? Il nuovo piano del comune di Napoli per la zona Bagnoli-Coroglio prevede un porto di 20 ettari per l'attracco di 900 imbarcazioni di medie dimensioni. Ci saranno 120 ettari di parco, di cui 2 chilometri di spiaggia pubblica. Ci saranno 50 esercizi commerciali a servizio della spiaggia e della balneazione. Una piscina olimpionica per nuoto e pallannuoto. 500 appartamenti. Due alberghi per complessive 700 stanze. Ed ancora un ostello della gioventù per 300 stanze. Ci saranno 160 negozi, 25 ristoranti. Ci sarà un polo destinato alla ricerca scientifica con oltre 200 uffici. E sono già pronte per queste cose 200 milioni di euro. Questo insomma è la linea che si prefigura, il futuro che si è disegnato per Bagnoli e Coroglio. Io non so se questi progetti siano la strada giusta, se siano il meglio per una zona con una bellezza dal punto di vista paeseagistica ed ambientale, davvero superlativa per tutta la zona della città metropolitana di Napoli. Anche perché i progetti poi vanno valutati per come poi si attuano effettivamente, rispetto a come poi sono stati disegnati e pensati. Mi viene da dire ad ogni modo fate presto, perché sono quasi 30 anni che questa zona è abbandonata a se stessa, tra degrado, inquinamento, infiltrazioni camorristiche, ricorderete sicuramente l'incendio di Città della Scienza. Ma soprattutto mi verrebbe da dire più che fate presto, fate bene, Coco Romana lo dico, fate bene su Bagnoli. È una scommessa importantissima per tutta la città di Napoli e non solo. A domani.